Sergio Ghilino, direttore tecnico della Sesterese, una bella vittoria in casa contro il Foccio e Magra, tre punti che ci volevano. Senz'altro una partita sofferta, sentita da tutti, l'abbiamo proprio risolta all'ultimo, però i ragazzi effettivamente è andato tutto oggi. È entrato due o tre giovani, l'allenatore starà lavorando molto bene, speriamo di tirarci fuori da questa situazione. C'è stata la soddisfazione della Coppa, già quest'anno ora manca quella della salvezza. Esatto, ci crediamo tutti, ci speriamo, anche oggi abbiamo sofferto, però mi sembra abbiamo fatto, non vorrei esagerare, una ventina di calci d'angolo. Sorgio Ghilino è arrivato a dare la sua esperienza alla Sesterese, che ambiente ha trovato? Un bel ambiente come sempre è stato e con questi ragazzi giovani speriamo l'allenatore di tirarci fuori il più presto.